Musica 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 Ciao Dio Che hai visto? C'è la madonna dietro di me Si vede una testa qua dietro No, c'è una testa che non si deve vedere Aspetta, no Dov'è? Hai visto? Aspetta, ma tu la sai la parola d'ordine? Si La sai? Agamennone Agamennone, hai indovinato, bravo Eeeeeee Eeeeeee Bravissimo, complimenti Hai indovinato, hai vinto Loro, di nuovo dai Eeeeeee Basta, basta Ciao Madonna C'è una mandria di persone Una mandria di persone che laggano Sento solo la loro voce Una mandria di persone che laggano, signori Ciao Madonna Oddio Agamennone Bravissimi Eeeee Perché c'è una squadra di calcio? C'è una squadra di calcio C'è, ha segnato l'Italia, cos'è? C'è l'Italia, cos'è? Guardate che gli europei abbiamo già persi E' il suo compleanno Auguri, vai tutti gli auguri Facciamo gli auguri Dai, auguri Basta, 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 basta Vedo la tua testa e il tuo orecchio Però non ti sento Però vedo il tuo orecchio Hogwarts aspetta solo Charlie In effetti io volevo andarci ad Hogwarts Però non mi hanno mandato la lettera E quindi Però, lo devo dire che ci volevo andare Ci volevo andare, lo giuro, solo che non mi hanno mandato la lettera Se me la vuoi dare la tua sono contenta E' la bacchetta di Sambuco E' la bacchetta di Sambuco Aspetta, tu la sai la parola d'ordine? Dimmi che sei la parola d'ordine La sai? Scrivila, scrivila La sai? Bravo, sei la parola d'ordine! E ti sei meritato anche un'altra cosa Adesso, una velina Andrà a prendere la mia bacchetta che si trova sulla libreria Grazie, signora velina La ringrazio La ringrazio, signora velina Per favore, non mi faccia cadere niente, signora velina Ok, perfetto Questa è la mia Aspetta, aspetta, aspetta Che la apro Tu aspetta, sei grifondoro Sei serpeverde, tasso rosso o corbonero? Non mi deludere, non mi deludere, amico Non mi deludere Serpeverde, basta Ciao, ci vediamo E' stato bello, mi dispiace No Ciao Ciao, sei un fake Non posso essere un fake perché ti sto rispondendo e ti sto parlando Quindi essere un fake è un po' difficile Ora non so se qualcuno è in grado di clonare Non ne sono a conoscenza di queste nuove tecnologie Però io credo di essere quella vera Aspetta Ehi tu, sali su un attimo Chi sto toccando, sali Toccami Sono vera? Potrei essere Ok, perfetto Puoi tornare giù Ciao Si vede un armadio e... C'era un armadio e poi è spuntato una testa Sono leggermente spaventata da questa cosa Agamennone Agamennone Bravo, hai indovinato Eeeeee 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 Ho una parrucca Ho una parrucca Ho fatto una permanente Ti piace? Ahahahah No, sai, volevo cambiare look Mi ero scocciata dai miei soliti capelli Ehi, a questa cosa prude Eh, mi donano, dici? Dici che li dovrei tenere? Sì, ti donano Va bene, grazie Ascolterò il tuo consiglio Ciao Wow 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 Hai le tette da fuori Amico, copriti Guarda che siamo in fascia protetta Non posso far vedere queste cose su YouTube O le copri o le scuoti Perché non puoi, cioè, per forza Non è che puoi... Adesso puoi sbattermi le cose in faccia E poi... Oh, ecco, bravo Così sei molto più carino All'omora L'ho fatto all'omora Non stupeficium, eh Tu giuro La metto a posto Ok, t'ho spaventato T'ho spaventato, ho capito Le tue mani sembrano degli elicotteri Quando le muovi così Fai di nuovo così Fallo di nuovo Guarda, sembrano degli elicotteri È fichissimo Continua, vai, continua Fallo ancora Fallo ancora, sì Bravo, grande Bravo, mani di elicottero Cioè, Edward Mani di forbice Tu sei... Come ti chiami? Aspetta Alessio Alessio Alessio, mani di elicottero Tu conosci la parola d'ordine Ha già scritta? Agavent ed è brevissimo L'hai vista? È comparsa all'improvviso Io non ho visto niente Ehi, ciao amica Che hai visto? Cosa c'è? Che c'è? Ho qualcosa sulla faccia? Ho qualcosa dietro? Sei sicura che non abbia qualcosa dietro? Sei proprio sicura? E aspetta Ma tu sai la parola d'ordine? La sai? Aspetta, vediamo Aspetta, la sta scrivendo Sta scrivendo la parola d'ordine Ce la facciamo, vai Agamemnon è prova! Io te l'avevo detto che avevo qualcosa dietro Oh, che spavento! Che spavento! Non c'era niente Ho sentito solo un urlo all'improvviso Ciao! Scusatemi, mi stavo scaccolando Quindi sono un po' preparata Ciao! Ciao! Gli elefanti? Gli elefanti? Dici che è un elefante? No, senti Ho una cosa nell'occhio Me la puoi togliere? Per favore Ciao! Sono Mr. Charlie Non è vero una bacchetta Ciao! Ciao bella! Agamemnon è! Agamemnon è! Ho vinto l'Italia Ciao! Hai un trapano in casa tesoro? No! Siete? non è vero una cosa che è io non è vero una cosa che ho visto prima che è la prima cosa che ho visto che non è vero che tu ho visto Siamo sicuri che siete tutte e due delle ragazze Oppure C'è stato un qualcosa di esterno Siete due cosa? Darth Vader No secondo me non siete Darth Vader Secondo me nascondete un qualcosa Lì là sotto Non so se avete inteso Aspettate mi dite per favore Luke io sono tuo padre Luke io sono tuo padre No 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 aspetta aspetta Con più enfasi proprio Luke io sono tuo padre Luke io sono tuo padre Madonna i brividi I brividi i brividi aiuto i brividi Ehi no Ciao 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 Ok Elisa mi vuole bene Qui c'è dello spam No se è un video svengo Ti prego non dirmi che è un video adesso Perché se no svengo Ciao Cosa Ciao Ciao Chi Cosa 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 No Sì Agamennone Quanto sei brutto Ma Hai sentito mia sorella? Non l'hai sentita No non l'hai sentita Non si riferiva a te Quanto sei brutto Basta Basta Elisa No è vero sei bellissimo Sei molto più Sei molto più bello di lei È matta più bello di te Mia sorella Mia sorella Ha una cotta per te Ecco perché l'ha detto Quando ha una cotta per qualcuno Lei si emoziona E inizia a dire queste cose senza senso Però in realtà Lei è una cotta per te Vuole sposarti Tu accetti? Accetti? Ti spesso le gambe se accetti È mia sorella Oh cosa accetti? Che dici che accetti? È mia sorella Pedofilo No cosa fai tu? Vai via Vuoi fare la foto? Vai fai la foto con me e tua moglie No voglio la moglie Sua moglie Sua moglie Vai La tua futura moglie Vai La domanda è Allora ti sento Loro o loro? È loro o è loro? È loro Oh da farti una domanda Tu sai come faccio io l'outro dei video? Sì La sai ripetere? Spero che questo video vi sia piaciuto Noi ci vediamo al prossimo video Giavi a tutti Non potevo dirlo meglio Giavi a tutti ragazzi Chiudi chiudi con me Chiudi con me Vai 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 3 2 1 vai